Il sentiero che da Trentova conduce a Tresino è da sempre oggetto di cumuli di rifiuti abbandonati tra la vegetazione e lungo il percorso. Infatti diverse segnalazioni sono pervenute negli anni. Una delle ultime è stata lanciata da Danilo Palmieri, guida escursionistica e volontario, che si occupa della pulizia dei sentieri con cura e dedizione insieme ad altri cittadini. Sul suo profilo Facebook denuncia una situazione alquanto evidente. Sul Monte Tresino regna ormai da un anno questa carcassa di camper bruciata. Qualcuno che siede sui tavoli di comando può prendere a cuore questa situazione e risolverla una volta per tutte. L'amministrazione comunale di Castellabate, come anche il comando dei carabinieri, ne ha conoscenza, ma non si sa il perché e nessuno si prende la briga di toglierlo. Da come potete vedere dalle foto, il camper sta sempre più scendendo verso giù, calcolate che fu bruciato a bordo strada. Aspettiamo con ansia che qualcuno di buon cuore prenda seri provvedimenti, il prima possibile. Se non sapete dove sta, questo è il mio numero di telefono 335 63 12 821. Mi potete chiamare quando volete e vi accompagno, sottolinea Palmieri. Un post accompagnato da altrettante foto che testimoniano le sue parole, richiamando l'attenzione di tutti, con la speranza che possano essere prese in considerazione attraverso delle azioni concrete. Fondamentale la collaborazione attiva delle associazioni naturalistiche, ma affinché non venga ripetuto lo stesso errore nel tempo, è importante che ogni singolo cittadino collabori applicando il proprio buonsenso. Si tratta dell'ambiente in cui viviamo e in cui magari vivranno i nostri figli, oltre ad essere un'area da tutelare e da difendere, ricca di fauna e flora, valore inestimabile per tutto il territorio occidentano. A tal proposito, poco più di un mese fa, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e l'assessore Rosa Lampasona avevano affermato è di fondamentale importanza la tutela dell'area Trentova-Tresino e ci stiamo adoperando per poter fare in modo di garantirla. Dopo quella dei giorni scorsi, abbiamo operato una nuova pulizia dell'area naturalistica dai rifiuti al fine di restituire dignità al nostro polmone verde. L'attenzione è massima per fare in modo che si possa risolvere una volta per tutte il problema dell'abbandono incontrollato di rifiuti nella zona, ma per farlo è importante che tutti i cittadini facciano la propria parte e siano al nostro fianco.